Buongiorno, sono Davide della concessionaria Skoda Autorigoldi di Milano. Oggi vi parlerò delle proposte assicurative che Volkswagen Financial Services offre ai nostri clienti e che si suddividono in tre soluzioni. La prima, New First Trip, offre la copertura a furto incendio della vettura, riconoscendo, nel caso in cui l'evento si verifichi nel primo anno, il valore a nuovo della stessa. La seconda, denominata New Business Tour, offre una copertura ancora più completa rispetto alla precedente, includendo servizi quali rottura a cristalli, eventi naturali, eventi sociopolitici, grandine e anche una mini collisione. Ed infine la terza ed ultima, New Club Voyage, che oltre ad avere le stesse coperture e tutele della precedente, comprende anche la Casco.